Però, perché apparentemente? Faccio del maniavantismo immediatamente dicendo che Jan Sommer è uno dei miei portieri preferiti della Bundesliga degli ultimi anni e non solo della Bundesliga. Detto questo, cerchiamo di parlare un po' del numero uno della Svizzera, perché effettivamente dire numero uno del Bayern Monaco, sì, degli ultimi sei mesi sì, dei prossimi difficilmente, e non solo perché torna Neuer, e in passato numero uno sì, quello del Borussia Mönchengladbach, in cui si è, diciamo, rivelato, in cui ha giocato otto anni e mezzo togliendosi tante soddisfazioni a livello personale e anche abbastanza sportivo tutto sommato, anche se alla fine per vincere qualcosa è dovuto andare al Bayern Monaco, ma questa è un'altra storia. Come sempre, prima di cominciare a parlare del giocatore di oggi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale qui sotto, cliccando su iscriviti, vicino c'è anche la campanellina su cui potete cliccare per far sì che i video, quando li pubblichiamo, vi arrivino direttamente sul telefono tramite la notifica, commentate, poi aspettate i miei vostri commenti su Sommer qua sotto, e anche se volete qualche altro giocatore che dobbiamo profilare in particolare, e ovviamente vi ricordo anche di seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, sempre at BundesItalia. Beh, dicevamo allora di Jan Sommer. Che portiere è Jan Sommer? Forse non c'è neanche tanto bisogno di spiegarlo, perché lo conoscono praticamente tutti, ormai esplosivo, reattivo, nonostante non un'altezza da portiere medio, supera di quasi poco l'1,80, insomma ben lontano dagli 1,90 di gran parte dei portieri europei, e non solo, ma è un portiere straordinariamente reattivo, bravissimo nelle letture, nel leggere in anticipo, nell'indovinare il lato, penso che sia anche per questo che è molto bravo sui calci di rigore, poi apriamo subito la parentesi sull'allenamento con gli occhiali da sole molto particolari, che faceva Gladbach e ha continuato a fare anche negli anni successivi, piuttosto che sul fatto che ha un blog di cucina, che è un personaggio veramente tutto tondo in Svizzera, però ecco, è soprattutto un portiere, ed è un portiere molto 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 bravo. Tra i pali, penso che abbia pochi uguali, quantomeno in Germania negli ultimi dieci anni, ma penso anche fuori dalla Germania, possa essere tranquillamente considerato nel giro dei top, perché è ciò che ha dimostrato, è sempre stato un portiere che ha preso tanti tiri, piuttosto tanti tiri col Borussia Mönchengladbach, e questo secondo me un pochino, il giudizio su di lui lo inficiava, cos'è che faceva capire che era veramente un gran portiere? Quando andava in nazionale, perché la Svizzera, insomma, non è mai stata una squadra particolarmente arrembante, più difensivista, lui le parate decisive le ha sempre piantate giù, quindi questo credo che sia il suo più grande pregio. Fa parate decisive, fa parate spettacolari, perché ci sono dei video nel compilation, su YouTube, sui canali del Gladbach, soprattutto in cui fa parate una via l'altra. Qual è il suo grande problema? Che ogni tanto, cioè quel secondo a partita in cui spegne tutto. Strano per uno Svizzero, ma ogni tanto spegne tutto, un secondo, due secondi, a partita quando risca poi di rovinare tutto, no? Facendo errori con i piedi, spesso non sono proprio la cosa preferita che sa fare. Al Bayern qualche buco l'ha preso, tutto sommato poi gli è quasi sempre andata bene, almeno quest'anno. A Gladbach in passato gli è andata un po' meno bene, tanti errori, sono costati punti. C'è anche da dire che quelli che faceva perdere, poi li faceva riguadagnare con gli interessi, nel senso che se ti faceva perdere tre punti con un errore, poi te ne faceva guadagnare quindici con le sue parate. Quindi se dovevamo poi mettere sul piatto della bilancia, è sempre un zommer sì, ecco. Però è un portiere che comunque adesso sta arrivando nell'anno di 35, perché parliamo di un classe 1988 che ha dato tanto già al calcio, 83 presenti con il nazionale Svizzera, oltre 300 con il Gladbach in Bundesliga da tantissimo tempo, anche prima in patria, ha sempre fatto molto bene, però ecco, con i piedi un errore ogni due o tre partite rischia di cacciarlo sempre, quindi da questo punto di vista può essere un pochino rischioso e forse secondo me è anche quello che gli ha sempre costicchiato la grande chance in un top club, che ce l'ha avuta, sì, al Bayern, dopo che Neuer si è infortunato. Bravo lui ad approfittarne, forse senza quel caos, Nagels, Mantuchel, quelle zone ero a metà stagione, forse avrebbe anche qualcos'altro in bacheca e non semplicemente la Bundesliga vinta grazie al Mainz e al Dortmund. I fatti ci dicono un po' questo, che a 34 anni la possibilità concreta che vada all'Inter a fare evidentemente il titolare, mi immagino, potrebbe essere forse sì veramente la più alta, la più importante della sua carriera dopo questi sei mesi, che però ripeto, erano un po' con una scadenza, apparentemente. È un paradosso, ma il contratto di Sommer col Bayern scade nel 2025, quello di Neuer nel 2024, quindi Sommer scade un anno più tardi rispetto a Neuer. Sommer è arrivato sotto Nagelsmann, Neuer torna titolare sotto Tuchel. È una situazione abbastanza particolare, sì. Io non dico che sono convinto che con Nagelsmann-Sommer non solo rimarreva il Bayern, ma forse giocherebbe anche, avrebbe giocato anche più che giocherebbe, avrebbe giocato anche, ma è una cosa che mi ronda un po' in testa, sinceramente. Questo per dire, comunque, godi di enorme reputazione, al di là di quelli che possono essere considerati gli errori di, ecco, cioè è un portiere che viene considerato affidabile, molto molto affidabile. Costa poco perché il Bayern lo ha preso a pochissimo, lo ha preso a 8 milioni, andava in scadenza con Gladbach al 30 giugno 2023, e Gladbach, pur di ricavarci qualcosina, se ne ha liberato con qualche mese di anticipo, piuttosto che perderlo a zero, alla fine un po' tutti contenti. Il Gladbach lo ha sostituito con un altro svizzero, Jonas Homlin, il Bayern ha avuto il suo portiere per la seconda parte di stagione, con tutto che poi è stato un casino, ma non sicuramente per demeriti di Sommer. Qualche pasticcio lo ha pure cercato di imitarlo, e, insomma, è un portiere comunque di sicuro affidamento, questo sì, ripeto. Potrà far venire qualche veroio dei tifosi nei razzori, qualora ci dovesse andare, ma per una cifra come quella di cui si parla, 6 o 7 milioni, penso che potrebbe essere tranquillamente definito un ottimo, ottimo, ottimo affare. Ciò su cui, secondo me, ci potrebbero essere delle perplessità, è di nuovo la situazione Neuer, che innanzitutto non farà alcuni amichevoli con il Bayern Monaco quest'estate, avrà un programma di allenamento diverso, non si parla di un ritardo nel rientro, entro agosto per la prima giornata dovrebbe essere pronto, ma è comunque un portiere di tanti anni, perché Neuer è dell'86, quindi va per i 38, è vero, è pur sempre Manuel Neuer, ma già l'ultimo anno un pochino qualche crepa l'aveva fatta vedere, e infatti già si sta venendo a riflettere sulla sua successione, che non può comunque essere quella di un portiere di 35 anni, cioè il Bayern rifletterà su qualcuno di sicuramente più giovane, però ci sono già dei portieri accostati al Bayern Monaco per fare da secondo a Neuer, che non sono Ulrich. Insomma, ecco, diciamo che la situazione in questo momento non è per niente chiara, e non credo che lo sarà ancora per qualche tempo, perché io credo che la situazione Sommer sia strettamente legata alla situazione Neuer, o Neuer è al 100%, e allora Sommer parte senza problemi, oppure non mi stupirei se dovessero ritardare un po' la cessione a gennaio, anche a costo di doversi tenere Sommer, a meno che chiaramente sia lui che chiede di andare via, questo è un discorso diverso. Però, diciamo che le voci che arrivano dalla Germania sono abbastanza contrastanti, in Svizzera soprattutto molti dicono che Sommer resterà, anche Zuberbühler, che è un altro storico portiere della Svizzera, in Germania invece si crede che potrebbe andare via, lui non sente pressione di dover necessariamente andare via subito a prendere una decisione adesso, insomma una situazione abbastanza in divenire, penso che rimarrà in bilico ancora per un po', non so quanto, ma ancora per un po'. Dunque, questa è un po' la situazione Sommer-Bayern, il livello di Sommer lo conosciamo, che portiere Sommer, ripeto l'abbiamo detto all'inizio, esplosivo, nei riflessi prontissimo, vi ricordo ancora quella parata col dito sulla linea proprio contro il Bayern Monaco, in una delle tante partite in cui Gladbach riuscì a fermare il Bayern, quando gli scappò all'improvviso e poi con un gesto felino riuscì ad allungare la mano, toccare col dito la palla evitando di farla rotolare oltre la linea, è solo una delle tante, possiamo ricordare i rigori parati a Sergio Ramos con la Svizzera, quello parato contro la Francia, insomma è un portiere che di imprese ne ha fatte e ne ha firmate tante 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 tante, ma secondo me ha ancora qualcosa da dare a un livello molto alto, che spero possa mantenere che sia il Bayern, che sia l'Inter, che sia in qualche altro top club, visto che, come ho detto all'inizio, devo mantenere fede a questa cosa, è uno dei miei portiere preferiti. E dunque anche per questo video è tutto, da parte di Giorgio Dusi grazie per averci seguito come sempre, continuate a seguirci su tutti i nostri canali, a presto con grandi video, con grandi novità, per oggi è tutto di Cabbefertig, ciao a tutti e alla prossima.